dietro colonia c'è la dinamica del branco un gruppo di maschi umbriachi testosterone liberi eccetera che fanno le porcate che fanno i maschi che facevano in sicilia e che forse fanno ancora in sicilia lei conosce bene certe foto ci sono delle foto clamorose la foto clamorosa della sicilia degli anni 50 la bella ragazza che passa tutti i galletti